quale favore si stanno moltiplicando con questi, adesso le mie mani sono sporche perché sto tagliando di là con il filo l'erba anche questa è la mia prima volta che taglio con il filo, con questi qua poi io pianto e nascono altre piantine quindi questi sono in teoria sono da togliere, quanti? ci sono tantissimi, dopo le piogge poi qua ho visto eccola qui, qua pieno, questa qui è già un po' rossa, se Dio vuole la mangerò poi questa è un'altra piena, questa niente, neanche quella, questa qui piccolina si vede sì, questa qui è stra piena devo mettere un attimo il filo dentro perché prende tutta la terra, questa qua è stra piena, piena proprio anche qui l'alto grappolo, anche da questa parte qui con i fiori, anche questa si sta moltiplicando qui, altri, poi i fiorellini che poi si trasformano in fragole, anche questa è piccolina però anche l'elepiena questa vediamo se ha qualcosa, no, non ancora, non ho fatto i fiori, poi questa mi pare, ho fatto vedere, non mi ricordo piena, anche questa, anche da questa parte qua, anche qua, anche da questa parte, questa niente vediamo quella piccolina qua, e ne ha uno, due, tre, quattro, quattro, questa è piccolina, questa mi pare, ho fatto vedere che l'è piena poi andiamo a quelle un po' più grosse, ecco qua, già un bernetto, basta aprire che già si vede che è piena qua, piena, anche da questa parte qui, qua c'è questa, anche questa, anche questa, dall'altra parte, anche qui, piccoline, va, se Dio vuole le mangerò con la cremuta di un bel limone nostro, questa è un'altra da questa parte, è piena questa parte, forse sono quelle di prima questa è quella, è la prima, proprio da lei, da lei sono venute tutte le altre, è da togliere un po' le erbace, sto aspettando che la terra sia più secca e man mano, con questi steli mi pare che si chiamano, con questi qua, io devo continuare qui a mettere, a fare come si è surriscaldato, ok, allora blocco perché il telefono si è surriscaldato grazie